C'è un preside che ha ricordato che il patto di corresponsabilità chiede agli studenti di adottare comportamenti e abbigliamento pienamente consoni all'ambiente scolastico. Quindi le studentesse devono sorvegliare il loro abbigliamento e devono riflettere sul fatto che in un contesto multiculturale abbigliamenti troppo disinvolti possono offendere la sensibilità di altre culture. Quello che ha scritto il preside del liceo Chiabrera Martini di Savona, Domenico Buscaglia, rischia di richiamare l'attenzione nazionale e naturalmente rischia di ottenere una polarizzazione di quello che sta accadendo in tutta Italia. In un momento in cui il paese è diviso su tutto e in un momento in cui una guerra sta cercando di mettere in discussione anche dei principi umanitari che sono basilari per la nostra convivenza civile. È un momento in cui anche la paura verso un'azione che possa nascere da sentimenti di identità diverse è tantissima in tutto il mondo. E quindi questa circolare rischia proprio in questo momento storico di alzare un polverone e sarà molto difficile spiegare per ragioni identitarie alle studentesse che non devono mettersi l'ombellico di fuori oppure una scollatura vertiginosa perché sono abituati così e forse perché qualcuno l'ha educati a vestirsi così anche a scuola. Grazie 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 Grazie